dimagrire con lo zenzero zenzero brucia grassi zenzero dimagrante tisana di zenzero per dimagrire perdi peso con lo zenzero ma simona cosa fai ti si è incantato il disco ma no sono i titoli di tutti gli articoli e video online che parlano dello zenzero e di fronte a tante promesse molti mi chiedono sarà vero la risposta arriva da una ricerca pubblicata su annals of the new york academy of sciences lo studio ha analizzato oltre 60 ricerche per dare una risposta univoca sui benefici dello zenzero per il metabolismo e la risposta della scienza è sì e il link allo studio è in descrizione lo zenzero aiuta a ridurre i sintomi delle sindrome metaboliche o mets sono considerati disturbi del metabolismo non solo sovrappeso e obesità ma anche glicemia alta diabete colesterolo alto ipertensione cardiopatie malattie infiammatorie e date dallo stress ossidativo ecco allora una ricetta per godere dei benefici dello zenzero ogni giorno si chiama fire tea tea di fuoco per il suo profumo speziato il suo sapore un po piccante ma dolce e riscaldante perché aiuta a bruciare i grassi si fa così bollire in mezzo litro d'acqua 5 centimetri di radice di zenzero sbucciato e grattugiato e due stecche di cannella spegnere il fuoco dopo 5 minuti lasciare raffreddare altri 5 minuti e aggiungere un cucchiaino di miele e un po di succo di limone lo zenzero stimola il metabolismo e la digestione oltre a essere saziante la cannella regola la glicemia e previene picchi e cali di zuccheri il miele è mineralizzante e nutriente e il limone antiossidante un pieno di benessere da bere e amico della linea se ami anche tu la salute naturale metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente ciao ciao